Noi siamo la Joint Tech Aerospace di Sommo Lombardo e collaboriamo in partnership commerciale di distribuzione con la Park Runny-Fin Corporation Americana Aerospace Division, soprattutto per i tubi flessibili e alta pressione per sistemi idraulici e anche alcuni bassa pressione per i sistemi carburante e la componentistica relativa di raccorderia standard, comunque di connessione ai tubi flessibili. Abbiamo poi valvole, innesti rapidi, giunti girevoli, sempre del gruppo Parker, abbiamo i license agreement per produrre comunque anche in loco i piccoli lotti e la linea di assemblaggio delle tubazioni flessibili, queste che vedete, che portano l'olio ai vari attuatori, pompe eccetera. Abbiamo un'unità di assemblaggio anche per la Formula 1 di questa componentistica, quindi forniamo la Ferrari e soprattutto solo il racing team e assembliamo questi componenti, questi innesti rapidi per tutta la Formula 1 in Italia, quindi abbiamo un buon mercato, il 20% del nostro fatturato, il resto è tutto aeronautica, gran parte sono di queste valvole che comunque sono qualificate dal gruppo Parker Ranifin. Quindi l'80% del vostro fatturato è tutto dedicato all'aeronautica? Aeronautica sì, è circa un 20% alla Formula 1, solo Formula 1. I team generalmente, almeno i principali hanno già dei metodi di selezione, di qualifica e di gestione che sono come quelli dell'aeronautica, comunque a volte anche hanno delle attività più performanti. In occasione dopo la pandemia abbiamo avuto problemi anche per visitare le varie aziende, l'accesso eccetera, incontrarsi personalmente è sempre un piacere, poi le cose migliori in business si fa face to face, il più delle volte voglio dire, ci si capisce il volo ed è una grande opportunità essere qua, quindi ritrovarci. Il mondo dell'aeronautica italiana è come una famiglia, è una realtà che lentamente sta crescendo, è chiaro che in una situazione di prospettive future, soprattutto per lo spazio e per le nuove tecnologie è molto importante esserci, è l'evento migliore e il più importante in Italia per il settore aeronautico e la relativa componentistica aeronautica e space. Grazie. Grazie.